Una bellissima poesia, il vero amico che non ha bisogno di commenti. Lei, quanti amici ha? Quelli della P2, erano suoi amici? Ma vede, l'amicizia è la prima virtù. Lei l'amicizia la incontra da piccolo e la dovrebbe tenere, se non ci sono degli screzzi particolari, fino alla morte. Quando è amico deve essere amico, sia nel bene che nel male. La stretta di mano deve valere, una volta valeva la stretta di mano, una volta potevo eventualmente anche dare un segreto a un amico perché non l'avrebbe eventualmente diramato. Oggi non esiste più l'amico, l'amico oggi è difficile incontrarlo, lo incontra soltanto per poter, se ha bisogno lui. Ma quanti le hanno voltato le spalle? Ma guardi, ovviamente riposto di questo, per la P2, che eravamo tanti, fu io a dargli dalla Svizzera l'allarme, rispondete che nessuno era iscritto alla P2. D'altra parte, quando vedi che c'era il terrore, venne il terrore, che vedevo che questa gente stava montando questo terrore perché c'era bisogno di nascondere qualcosa, il governo aveva bisogno di avere qualcosa in mano, di poterlo perseguitare, per distrarre probabilmente quello che doveva accadere e che accadde, che noi avevamo allora a quell'epoca il Partito Comunista. Ti ricordi bene che sia con la P2 che eventualmente con la Gladio, perché la Gladio era in certo qual modo il braccio armato, così, e con la loggia massonica P2, erano due armate invisibili e il Partito Comunista non poteva eventualmente, perché noi con la P2 avevamo l'Italia in mano. Allora c'era l'esercito, l'esercito, tutti, guardia di finanza, polizia, era eventualmente comandata da tutta la gente della loggia massonica P2. Ma tutto per il bene, noi non abbiamo mai voluto attaccare e non si poteva attaccare, però eravamo una sentinella perché non emergesse il Partito Comunista, perché se il Partito Comunista avesse tentato, in quel momento veniva da un'altra parte... Ma c'era il pericolo che il Partito Comunista facesse un colpo di Stato? Caspita, in quell'epoca il Partito Comunista, se lei riguarda dal 65 fino al 75 fino all'80, era bene organizzato, ma organizzato militarmente. Sapevamo noi che c'erano appunto di fronte a delle determinate caserme degli appartamenti affittati a degli anticomunisti, lì armati, che dovevano eventualmente bloccare in caso di allarme, in caso dovesse partire, doveva sfruttarsi la caserma dei carabinieri o la caserma... loro erano dalle finestre, li avrebbero sparato e quindi non avrebbero potuto intervenire, perché sapevano anche organizzare militarmente bene colpi di Stato il Partito Comunista. E gli occorreva eventualmente... Era eventualmente, perché aveva un potere militare a quell'epoca e c'era l'intenzione... Non il Partito Comunista oggi che non conta più niente, perché sono 11 bande, si divide tra loro a quell'epoca. Di conseguenza la loggia Massone Capitoli raccoglieva tutte persone che non avevano bisogno di fare carriera, semmai di essere sostenuti, ma non fare carriera, perché erano tutti arrivati ai posti di alta responsabilità. Senta, visto che l'ha toccato lei, la sinistra italiana è in uno stato difficile. Intanto Veltroni che fa? Resta leader o secondo lei non mandano via? No, d'altra parte Veltroni dovrebbe mentalmente riguardare quello che dice alla televisione, la figura mentalmente che fa in televisione, e allora si dovrebbe dimettere da se stesso, dovrebbe scomparire se avesse un po' di... secondo il mio concetto. Certo, è un parere? È un mio parere personale. Certo, ma le c'è? Non è un politico, ecco, non è un politico. Anche fa delle promesse che non può mantenere. Ma questo tutti però, Comandatore? Tutti, questo lo stanno facendo tutti. Però dato visto e considerato che lui si rinnova, avrebbe dovuto dimostrare che io... Io, d'altra parte, non sono come voi. Se prometto, devo mantenere. No, eventualmente. E poi anche lui, immediatamente c'è un insulto. Con l'insulto non si può educare. La sinistra di oggi, l'ha già detto, non farebbe paura la P2. No, per carità. Non sarebbe nemmeno nata la P2 oggi. Chi le piace? Io so che lei comunque gente di sinistra le stima anche amici di sinistra, giusto? Certo, io stimo l'uomo, non stimo lentamente l'ideologia. C'era anche un comunista nella P2, è vero? C'era anche un comunista nella P2, ma non ha mai rivelato il nome. Io questo non me lo ricordo. Ho letto io nei libri. Non me lo ricordo. Ma tenga presente, nella logia massonica P2, c'era eventualmente quel trinomio che diceva non fare agli altri ciò che desideri sia fatto a te. Fai a te quello che vorresti fare a te. Ma soprattutto è il terzo. Prevedi e provvedi alle necessità di tuo fratello senza che esso sappia da quale parte proviene. Perché lì c'era una muta assistenza. C'era veramente una solidarietà. Veramente si sentivano i sentimenti di aiuto. Non avevano bisogno quelli che facevano parte della logia massonica P2. E erano serie. Perché non c'è mai stato uno eventualmente. L'ultimo, perché non c'era più la logia massonica P2, è stato Costanzo, che eventualmente è stato il pentito. Si è classificato un cretino e giustamente va giustificato. Perché quando uno riconosce i meriti, è bene eventualmente giustificarlo. No, certo. Senta, ma la moglie di Costanzo l'ha mai conosciuta? La Maria De Filippi in televisione l'ha mai vista? No. Mai neanche una volta? Sa chi è? Maria De Filippi, cosa fa? D'altra parte eventualmente si dovrebbe correggere un po', dovrebbe esercitare anche un po' con la voce. Dovrebbe esercitarsi così per fare quello che le viene fatto. Perché probabilmente avrà molti scherci perché dovuti proprio a Costanzo. Certo, che comunque quel mestiere, devo dire, io lo conosco, lo sa fare. A sinistra, chi salva, diciamo? Chi salva? Oggi come oggi non si può salvare nessuno. Oggi come oggi, l'Italia non c'è un leader. Lei se eventualmente, se Bielosconi nonostante abbia 73 anni e giovane, però c'è anche qualche fatto di salute. Spero eventualmente che non abbia nulla perché io il male non l'ho mai, l'ho sempre giustificato e non mai eventualmente inviato a qualcuno qualche maledizione. Perché non mi interessa? Io guardo me stesso, io sono me stesso, io la mattina so ascoltare le voci proprio interne, soprattutto quello della coscienza. Il resto non mi interessa a me, le considerazioni degli altri non mi interessano. Io posso rispondere come rispondeva Virgilia Dante, non ti curare di loro ma guarda e passa. Io sono sempre passato davanti, non abbasso mai gli occhi. Non le piace nessuno, D'Alema, Enrico Letta, che ne so. Vedi, Letta è un bravo diplomatico. Gianni Letta, lo zio. Gianni Letta, quando era direttore del Tempo, noi si trascorrevano molte volte al caffè Berardo di Roma, si prendeva il caffè spesso perché allora era del gruppo Monti e Attilio Monti era un mio carissimo amico. E è tutt'oggi un grande diplomatico. Rosi Bindi, le piace? Eh? Rosi Bindi. Dio mio. Potrei dire terminiamo qui la... No, no, vabbè, no. Terminiamo qui perché se vuole eventualmente... Vabbè, io devo fare qualche nome. Ma lei ha perfettamente ragione, ma Cossiga mi pare che il presidente Cossiga l'abbia classificata molto bene. brutta, cattiva, eccetera, eccetera. Senta, Anna Finocchiaro? Eh? La Finocchiaro dei DS? Ma è vero, lei d'altra parte, anche lei sembra più uomo che donna, in certo qual modo. Ma le donne che fanno politica si virilizzano tutte un po'. La Sant'Anchè? Eh? La Sant'Anchè la conosce? No, io non la conosco perché l'ho veduta qualche volta in televisione, eccetera. No, io non la conosco perché l'ho veduta qualche volta in televisione, eccetera.